Buongiorno a tutti, nel video di oggi proseguiamo la descrizione, la lettura, l'analisi di quello che abbiamo avuto modo di esaminare ieri attraverso questa figura particolarmente interessante, Antonio Venturini, un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, particolarmente attento, anche particolarmente coraggioso nel dire come stanno le cose, spiattellarle in faccia a badoglio, evidenziando le tante criticità, ma anche facendo una critica costruttiva, nel senso che non è che le cose vanno male e andranno male, no, le cose sono andate male, continuano ad andare male, ma c'è uno spiraglio, c'è una possibilità di riscatto, c'è una possibilità di far invertire la tendenza verso l'abisso, verso la condizione di sudditanza nei confronti dei tedeschi e degli anglo-americani in base all'elemento geografico, alla collocazione spaziale degli italiani che in qualche modo appunto si trovano, come dicevamo molte volte, tra l'incudo e il martello, non più alleati dei tedeschi, ma ancora non alleati degli alleati, quindi in qualche modo sarà un lungo calvario per arrivare anche solo alla cobelligeranza, possiamo dire. Ebbene, proseguendo quindi la lettura dei documenti diplomatici italiani, che ci offrono uno spaccato profondamente interessante, uno spaccato illuminante, potremmo dire, il 15 ottobre, sempre il 15 ottobre, riprendendo appunto quello che già abbiamo detto in parte ieri, da Brindisi, ovviamente nel 1943, il primo segretario di delegazione Venturini al ministro a Lisbona Prunas, quindi abbiamo anche un'attività di sponda verso corrispondenze estere. Lettera personale, sono giunto qui da pochi giorni proveniente da Roma, l'abbiamo avuto modo di vedere nella descrizione di ieri, in cui appunto Venturini racconta anche una sua rocambolesca, un suo rocambolesco viaggio da Roma a Brindisi, tale da permettergli anche di capire un po' la situazione, di avere il polso di quello che ha incontrato nel percorso, un percorso periglioso, un percorso non facile, quindi avendo avuto modo anche di capire com'è la realtà della guerra, come si superano le linee, in che condizioni vivono le popolazioni, in che condizioni le condizioni delle popolazioni ha prodotto nel senso comune, nel senso morale, nelle aspettative, nelle delusioni della popolazione. Questo è sicuramente un elemento di grande rilevanza all'interno di un'analisi dei contenuti, dei documenti ufficiali che spesso sono molto distanti, distaccati, impermeabili a ciò che accade realmente. Si parla di massimi sistemi senza andare a capire qual è la realtà effettiva, la realtà contingente, la realtà quotidiana delle condizioni delle persone. Quindi, la situazione che ho lasciato colà è delle più tragiche. I tedeschi stanno spogliando l'Italia, hanno imposto il servizio obbligatorio del lavoro per tutti gli uomini, dalla classe 1910 a quella 1925, hanno arrestato ed internato in Alta Italia o in Germania gran numero di generali e di ufficiali superiori, hanno fucilato parecchia gente compromessasi con il regime Badoglio, stanno ovunque spargendo il terrore, e seguono nella loro lenta ritirata la politica della terra bruciata. Aggiunge a ciò il nuovo governo repubblicato di Mussolini, che cerca di far propaganda per arruolare il maggior numero di elementi della nuova milizia fascista e per ricreare una nuova rete di interessi intorno al partito. Gli ufficiali sono stati sciolti dal giuramento. Ai funzionari si chiede di aderire e collaborare. Coloro che si rifiutano corrono il rischio di essere arrestati insieme alle loro famiglie. Moltissimi cercano di nascondersi o di fuggire, ma per forza di cose moltissimi sono pure coloro che si piegano. L'odio contro i germanici è però condiviso dalla quasi totalità della popolazione italiana, la quale vive nella speranza di essere presto liberata. Tale è la situazione dell'Italia occupata, situazione che sarà certamente peggiorata in seguito alla dichiarazione di guerra alla Germania. Nell'Italia già liberata la situazione pure è assai difficile, ma per altri motivi le distruzioni delle zone in cui si è combattuto lasciano le popolazioni in un nuovo stato di grande miseria. L'interruzione dei mezzi di comunicazione rende molto arduo far giungere i rifornimenti che d'altra parte scarseggiano. L'AMGOT, sarebbe l'amministrazione militare alleata, controlla tuttora la maggior parte del territorio italiano, per cui il governo Badoglio non ha che poteri alquanto limitati. Americani e inglesi si mostrano però, specie in questi ultimi giorni dopo la dichiarazione di guerra, favorevoli a dare al governo italiano la piena sovranità sul territorio italiano che non sia più zona di operazione. Quindi in qualche modo in tutta questa analisi drammatica si vede comunque uno spiraglio, una luce in fondo al tunnel. A Brindisi si trovano le loro maestà, il principe di Memonte, parte del governo, uno stato maggiore. Guariglia è rimasto bloccato a Roma e pare sia stato arrestato. La situazione è un po' diversa, però diciamo che non è che è rimasto bloccato, lo hanno abbandonato, questo è un elemento drammatico. Più presto vieni, meglio è. Vi è molto da fare e tu potrai fare molto. Quindi una richiesta di aprunas, diciamo, tu sei un uomo palido e abbiamo bisogno di te. Di funzionari degli esseri siamo qui in sette, io sono il più anziano, altri funzionari sono in viaggio oppure nascosti fra Roma e l'Italia liberata. Man mano che le truppe avanzeranno acquisteremo quindi nuove reclute. Quindi è una sorta di invito a contribuire, ad aiutare le persone di buona volontà, che non sono mai abbastanza. PS, in seguito alla emissione da parte dei governi inglesi ed americani di moneta di occupazione, tutti i prezzi stanno rapidamente aumentando e l'inflazione, con tutte le sue paurose conseguenze economiche e sociali, e alle porte occorrerà affrontare al più presto tale questione. Il giorno dopo, sempre Venturini scrive all'ambasciatore a Madrid Paolo C. De Calboli, che si è operato per varie trattative, tra cui appunto la dichiarazione di guerra alla Germania. Questa lettera personale è del 16 ottobre, sempre da Brindisi. Per incarico di Sua Eccellenza Badoglio, le trasmetto l'Unito, appunto, che però non è pubblicato, contenente varie notizie sulla situazione generale in Italia, con preghiera di volerne far prendere conoscenza a tutti i funzionali di Codesta Reggia Ambasciata, ai Reggi Uffici Dipendenti, ai Reggi Delegazioni in Lisbona, al Reggio Consolato a Genedin Tangeri e a tutti i Reggi Uffici cui le sia possibile trasmetterlo. Per quanto riguarda la situazione qui, è certo che siamo ancora ben lontani da poterci considerare su un piano di parità con gli alleati. non sarebbe mai stato. Essi controllano ancora la maggior parte del paese occupato, neppure abbiamo già manifestato l'intenzione di restituire all'amministrazione italiana Sicilia, Calabria, Lucania e Campania, praticamente sopprimendo l'AMGOT. E anche nelle province delle Puglie esercitano il controllo sull'ordine pubblico, congiuntamente ai reali carabinieri, sulla stampa, la radio, il cinema, eccetera. Dal punto di vista immediato, il problema più grave è quello dell'approvvigionamento delle grandi città, soprattutto di Napoli, lasciate tedeschi in condizioni disastrose, come più tardi sarà di Roma. Vabbè, è un problema che ci si pone, sappiamo, molto dopo. E ciò sia per le enormi difficoltà dei traffici all'interno, a causa delle interruzioni stradali e ferroviari, e della mancanza di mezzi di trasporto, sia per la scarsezza di naviglio alleato con cui trasportare i rifornimenti d'oltre mare. Gli anglo-americani dimostrano comunque molta buona volontà e una riunione è stata tenuta giorni fa per studiare più urgenti misure da prendere. Qui ha partecipato la parte nostra, Sua Eccellenza Jung, che è un poco il consigliere finanziario del governo in questo periodo. Interessante come Guido Jung, ebreo, che era già stato ministro delle finanze sotto Mussolini, andrà a far parte del governo in maniera ufficiale dopo poco, anche se di fatto non lo potrebbe fare, visto che la normativa antiebraica è ancora stringente in tal senso. Tra l'altro c'è un... ecco proprio qua, vedete qui, questa è una biografia di Guido Jung, il ministro soldato vita di Guido Jung, questa è di Nicola Degliani, un volume molto molto interessante che è uscito ormai una quindicina di anni fa. Io ho dedicato anche, ho fatto una biografia anch'io per conto mio di Guido Jung, un personaggio molto interessante, Mussolini dieci anni prima, quando l'aveva chiamato a fare il ministro, diceva Jung è un ottimo elemento, anche perché un ebreo alle finanze fa comodo, interessante, diciamo questi elementi anche tragicomici di opinioni che Mussolini poteva avere all'inizio degli anni trenta e poi criticava Hitler e poi farà lo stesso, e forse per certi aspetti è anche peggio sotto l'aspetto di alcune brutalità. se volete fare una scala di valori, ma diciamo, vabbè, questo è un altro discorso. Ci domandiamo se non sarebbe possibile ottenere grano dall'Argentina o soccorsi di altro genere dalla Croce Rossa internazionale, ma il problema che a breve scadenza minaccia di diventare più tragico è quello dell'aumento dei prezzi dovuto sia alla rarefazione dei generi, sia all'inflazione provocata dalla messa in circolazione di valuta militare in misura incontrollata. Tale valuta, espressa in sterline, quella delle autorità inglesi, e in lire, in quella delle americane, circola con pieno potere liberatorio nel territorio occupato, in osseguio ad una delle clausole dell'armistizio, al cambio di una sterlina per 400 lire o a un dollaro per 100 lire. Ricordate la quota 90 di Mussolini, che in qualche modo è una politica monetaria della seconda metà degli anni 20, che fu fallimentare, che creò un sacco di problemi all'economia e all'inflazione italiana. Ma vabbè, questo è un altro discorso, una delle tante sciagure del governo Mussolini. E qui ci troviamo in questa situazione. Il governo italiano, che si è impegnato a riscattare a suo tempo tale valuta cartacea, non ha alcuna possibilità di sapere quanta di essa si è messa in circolazione. Può tutt'al più calcolarlo approssimativamente dal numero delle truppe occupanti e dal soldo che essi ricevono. Ora, tale soldo è enormemente sproporzionato al potere di acquisto medio dell'italiano. Un ufficiale inferiore riceve oltre 40 mila lire al mese, un soldato 6 mila. Si può immaginare quale effetto ciò abbia sui prezzi e come il continuare su questa strada non possa alla lunga portare che al polverizzamento della valuta nazionale. E che vi devo dire? Interessante. Un ufficiale superiore riceve 40 mila lire e un soldato 6 mila. La discreva, però, ci può stare per l'epoca, ma anche per oggi, insomma, i prezzi, i stipendi. Esempi recenti si sono visti in Grecia e in Croazia dove pure le misure finanziarie prese dall'asse erano state meno drastiche di quelle adottate nel caso italiano. Credo che il governo si proponga, non appena una migliorata atmosfera lo consenta, di cercare di ottenere alcuni provvedimenti per ovviare almeno ai più gravi aspetti di tale situazione. Punto A, fissare un tanto mensile da versarsi il lire italiano e il reggio governo quale contributa alle spese di occupazione calcolato sul numero delle truppe, come è stato fatto in Francia e in Croazia. Punto B, chiedere se gli ufficiali e soldati ricevano solo una parte del loro soldo in valuta spendibile in Italia, mentre il resto venga loro accreditato in patria in valuta locale, come è stato fatto da noi in Croazia e in Grecia. Venendo così a diminuire la pressione del loro elevato potere d'acquisto sul mercato italiano, che è un problema anche di natura finanziaria, perché capite bene come già il paese è distrutto, in più ci si mette pure un elemento inflattivo nel potere, un potere di mercato estero e quindi in qualche modo si può valutare. Io ricordo, ero un ragazzo, per il mio diletto partecipare, andavo a liceo ancora, andavo in un corso di economia, così mi interessavo già all'epoca di qualche... e c'era un vecchio professore che raccontava l'inflazione. Come si spiega l'inflazione? L'inflazione è, pensate, che ci sono quattro persone che vanno a giocare a poker e ognuno si porta, non so, 50 euro. 50 euro, e quindi ci sono 50 euro per ciascuno sono 200 euro, quindi danno ognuno 50 euro, 200 euro, e vengono emesse le fiche corrispondenti ai 200 euro. Quindi diciamo che chi vince poi alla fine recupera i 50 euro più la differenza degli altri che perdono. Ma pensate che uno dei quattro giocatori è lo Stato che si porta le fiche da casa. Quindi, se si porta le fiche, oltre ai 50, ha dato 50 euro in contanti, ma ha preso il corrispettivo in fiche, però si è portato da casa altri 200 euro di fiche portate da casa. Quindi va da sé che indipendentemente chi perde e chi vince, quando si va a riscattare il corrispettivo dei 200 euro contanti che ci sono stati depositati, essendoci un gettito circolante di 400 euro, va da sé che le fiche valgono la metà e quindi rispetto a quello che hai dato, avvi dato 50, riceverai 6 paro, ricevi 25. Quindi questa era, mi è sembrata una spiegazione molto semplice, molto efficace di spiegare com'è l'inflazione. Basta che uno porta soldi dall'esterno e in qualche modo, indipendentemente dal potere d'acquisto, il potere d'acquisto si sprofonda. E questa è la stessa cosa. Gli americani giocano a poker e poi gli angloamericani portano le fiche da casa loro e quindi ovviamente poi sul piatto, indipendentemente se hai vinto o perso, il valore è ovviamente diminuito. Veda, signor ambasciatore, se lei ritenga possibile accennare ai suoi colleghi inglesi, americano, la difficilissima situazione sovra prospettata. Quindi Venturini cerca di far perorare la causa nazionale a Madrid e magari tu hai più possibilità di farti sentire in una piazza più autorevole rispetto a quella dove siamo noi a Brindisi che non ci ascoltano molto. Le relazioni correnti con gli angloamericani sono per resto cordiali. Qualche modifica alle clausole armistiziali a nostro vantaggio è stata già ottenuta. Per esempio la restituzione di parte della flotta, incrociatori, caccia, qualche sommergibile a naviglio minore e buone speranze si nutrono per la restituzione delle navi di abbattaglia. Unità della squadra partecipano alla scorta dei convogli alleati nostri reparti aerei volano sull'Italia occupata da tedeschi per il lancio di manifestini. Qualche reparto dell'esercito è in ricostituzione sia pure con difficoltà data la lentezza con cui perviene il nostro materiale a suo tempo catturato dagli angloamericani in Tunisia e in Sicilia ed entrerà in questi giorni in linea. Alcune altre notizie sulla situazione sono contenute in una mia lettera personale a Prunas quella che abbiamo letto prima che nel Corriere la legga prima di inoltrarlo quindi diciamo che invita Paolucci di Calvoli a leggere anche la lettera che Venturini rivolge a Prunas. Quindi mi è sembrato interessante accoppiare queste due lettere che in qualche modo evidenziano il tentativo di persone serie di servitori dello Stato con la S maiuscola nel cercare di rialzare una situazione che invece a livello politico è molto tragica molto tragica perché avevamo avremmo avuto anche in seguito dei politici che anteponevano sempre i propri interessi non voglio fare dell'antipolitica non voglio dire tutta un erbo un fascio perché sennò sarei sulle barricate non è mio costume e neanche questa la sede per esprimere questo opinione però diciamo che in quel circostanza sicuramente avevamo nulla migliore delle classi politiche possibili e questo ovviamente è proprio la risultante la causa e l'effetto di quello che poi è caduto ovviamente nel 43 e quello che ci siamo con grossa fatica scrollati di dosso fino ad arrivare appunto a una riqualificazione anche istituzionale politica internazionale morale del nostro paese con questo io vi ringrazio come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao